I vaccini nel corso della storia hanno salvato migliaia di vite umane. Nella nostra storia recentissima la dimostrazione è arrivata dalla vaccinazione contro il Covid. Eppure, nonostante i risultati fino ad oggi ottenuti contro il virus, sono ancora in tanti a non aver ricevuto neppure la prima dose. C'è insomma ancora molta diffidenza. Le motivazioni dell'esitazione vaccinale sono tante. Certamente al primo posto possiamo mettere un'informazione che magari a volte non è precisa oppure un'informazione che corregga l'attività degli antivaccinisti che basano le loro teorie su elementi che di scientifico non hanno nulla. Certamente c'è anche un problema legato al successo stesso dei vaccini. Spesso un vaccino è vittima del suo successo. Cioè il fatto che uno cominci a non vedere più la malattia magari lo limita nell'accedere al vaccino. Come è andata la campagna vaccinale in Molise? Per il Covid noi abbiamo raggiunto dati di copertura eccellenti rispetto alla media nazionale. Non è così per la quarta dose. È vero che sulla quarta dose un po' tutte le regioni stanno arrancando, il Molise in maniera particolare. Questo è preoccupante perché la quarta dose è rivolta soprattutto a persone che hanno determinate patologie, determinati profili di fragilità. ma andrebbero assolutamente vaccinate perché arrivare alla prossima stagione autunnale invernale con un vaccino fatto magari sei mesi fa potrebbe essere un rischio. A Campobasso in mattinata un convegno per affrontare il tema legato soprattutto all'importanza di vaccinarsi per i soggetti fragili. Per definizione il soggetto fragile è un soggetto affetto da patologia cronica, una o più patologie, in genere è un soggetto che potrebbe essere non autosufficiente in trattamento pluriterapeutico e ha un sistema immunitario debole, deficitario, per cui c'è necessità di dosi di vaccino per immunizzarlo e quindi potenziare le difese immunitarie. Cerchiamo di far capire che nel calendario vaccinale per la vita, quindi calendario introdotto nel piano regionale di prevenzione vaccini, ci sono tanti altri vaccini che vengono offerti gratuitamente a tutti i fragili, alle categorie a rischio per lavoro, ad altri soggetti che per esempio anche i soggetti che vanno all'estero per viaggi non di piacere ma viaggi di lavoro, missioni umanitarie, per cui questi hanno diritto alla vaccinazione gratuita. Le vaccinazioni possono essere l'antinfluenzale, l'antipnemolococcica, l'antimeningococcica quadrivalente, l'antipapillomavirus, l'antierpes zoster. Grazie. Grazie. Grazie.